Gli Hotel Monroe sono una band della provincia di Parma, per la precisione Tizzano Valparma nell'Appennino, siamo un gruppo di amici, amici perché siamo dello stesso paese, quindi siamo sulla stessa via di questo piccolo paese, dopo anni di tante cover nel 2013 abbiamo intrapreso questo percorso nella musica inedita, portando avanti già alcuni dischi e adesso continuando con questo nuovo singolo in uscita e con un futuro prossimo disco. Il nuovo singolo Aria è un brano al cui siamo particolarmente legati perché è il nostro nuovo inizio, il brano è nato la sera che ci siamo ritrovati in piena pandemia quando finalmente siamo riusciti a rincontrarci uscendo di casa. Era una settimana che non ci incontravamo, avevamo assolutamente bisogno di tornare a suonare, tutto si era fermato e in sala prove ci siamo guardati e non sapevamo bene cosa dovevamo provare. Ebbene da lì nel giro di, ricordo bene non sarà passata mezz'ora, è nato il giro d'accordi, la melodia e sono rimasti quelli nonostante la produzione, gli arrangiamenti di tutta la squadra di professionisti che ci ha lavorato. Quindi è stato un momento magico, una vera boccata d'aria e quindi ascoltatelo.